MEMOX MEMOX 32 anni fa si inserisce nel mercato della gelateria con le attrezzature per i privati. In breve l'evoluzione, quali sono stati i punti cardine su cui ha fondato il suo successo? Nasce 32 anni fa iniziando con delle macchine per uso prettamente domestico, quindi orientate alla casa, al consumatore finale, delle piccole macchine economiche ma efficienti che permettono di fare un gelato simile a quello che si trova in gelateria, non identico, altrimenti sarebbero macchine professionali. Nel volgere di pochi anni vediamo nascere nel mercato un'esigenza da parte della ristorazione, in particolare, di disporre di attrezzature più professionali per realizzare anche in ristorazione un gelato che potesse dare dei risultati interessanti e personalizzare il locale, poter muovere delle ricette in modo alternativo che non fossero le stesse che si trovano normalmente in gelateria. Si parla di gelato salato, di gelato gastronomico, di altre possibilità che vengono date grazie all'impiego di attrezzature più professionali e dedicate al mondo dell'oreca. Oggi si parla di sistema all'interno del mondo Nemox. Qual è il sistema su cui si sta puntando l'obiettivo per l'ottenimento e soprattutto il guadagno di maggiori fette di mercato? Sì, quello del sistema è un argomento molto interessante perché essendo appunto una realtà che basa la maggior parte della sua attività nel mercato dell'oreca, bisogna fornire anche delle soluzioni complete. Non solo la mera attrezzatura, si parla di dare supporto anche nello sviluppo di ricette per esempio. Quindi di dare un sistema completo che vada dall'attrezzatura al risultato finale che si desidera trovare nel piatto. Cos'è Culella System e soprattutto chi andiamo ad accontentare nel mercato, nel segmento di mercato scelto da Nemox? Culella System nasce da una collaborazione molto stretta fra un noto food designer Paolo Barrichella che poi incontreremo che abbinando le sue conoscenze specifiche alle attrezzature Nemox ha permesso di innovare il mondo della presentazione del gelato gastronomico. Qual è l'idea e soprattutto come si struttura questo sistema Culella? L'idea è stata proprio quella di differenziare il tipo di gelateria che normalmente sempre di più oggi è nello street food e riportare le persone a mangiare sedute perché il miglior modo di gustarsi un gelato dal mio punto di vista è proprio stando seduti. E quindi il sistema nasce per riportare di fatto le persone a mangiare un gelato seduti. Parliamo di ristorazione, che cosa è possibile effettivamente realizzare quando si parla di gelato nell'ambito gastronomico? Grazie a Nemox e alle sue macchine si può fare praticamente tutto, nel senso che chiaramente il gelato è di per sé un dessert, quantomeno è concepito come tale. Al ristorante però si può uscire da questo schema e chiaramente giocare un po' con gli elementi come faremo oggi e sconfinare un attimino nel mondo del salato, per cui si può arrivare a fare anche degli antipasti, anche delle preparazioni a finger food. Caratteristiche più importanti che deve avere un sistema per accontentare uno chef quando si parla di gelato applicato nell'ambito ristorativo e non gastronomico? Devono essere delle macchine pratiche perché uno chef ha tante cose da tenere sotto controllo e una macchina per gelato deve essere di semplicissimo utilizzo. L'autonomia, la cosa principale delle macchine Nemox è che una volta avviate hanno un sistema automatico che ti permette di conservare il gelato, per cui nel momento in cui si va in produzione poi ci si può quasi dimenticare del gelato perché non succede nulla, quando mi servirà sarà pronto ad essere servito. Per dimostrare come si può uscire dagli schemi faremo una crema gelata a cacio e pepe con i rigattoni croccanti. Di che cosa aveva bisogno la ristorazione? Che Culella System va a compensare in maniera esatta? Principalmente l'efficacia perché un sistema deve necessariamente essere efficace per poter entrare in ristorazione. Quindi macchine molto limitate come dimensioni, molto efficaci e potenti e allo stesso tempo delle basi che noi abbiamo costruito surgelate da rigenerare in 90 secondi. Quindi nel momento in cui un cliente ordina dal menu, in 90 secondi si può erogare il tipo di prodotto ottenendo un prodotto in termini qualitativi molto elevato a livello organolettico. Abbiamo un preview veramente interessante di un'attrezzatura e di un sistema, torniamo alla parola sistema, che entrerà in funzione a partire dal 2019, coperto da brevetti internazionali molto forti e che permetterà di cambiare per alcuni segmenti di mercato la distribuzione del gelato, soprattutto dove ci sono difficoltà a livello igienico di trattare l'alimento fresco. Perché oggi scelgono un Nemox? Affidabilità, qualità del prodotto e del servizio, azienda che da 32 anni non ha mai deluso i propri clienti. Grazie. Grazie.